Felicità è la gioia di vivere, ma il destino può infrangere facilmente questo sentimento ed è appunto la storia di queste due donne. Bambini, ecco a voi Pinocchio e Geppetto. Minasan,これが Pinocchioと Geppetto G-sanです. Pinocchio è un tipo che scherza sempre, senza ascoltare quello che gli dice il padre. Pinocchioはおじいさんの言うことを聞かずに itazuraばかりしてしまいます. Pinocchioは嘘をつくと鼻がぐーんと伸びてしまいます. Però alla fine Pinocchio salva la vita al padre e per questo atto di coraggio viene ricompensato da Dio. でも最後にはおじいさんの命を救うんです. そんな Pinocchioに神様がご褒美をくれます. Allora, quale pensate se la ricompensa? Guardate questa storia fino alla fine e lo capirete. さて,そのご褒美とは一体何でしょうか? 最後まで Pinocchioの冒険を見てくださいね. Sunsetto Sleku. Sì Sì Ah! Sì! Sì! Mi sa qui? Ah! Non è vero! Sì! 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 Mi sa qui? Mi sa qui? Mi sa qui? Mi sa qui? Oì! Serv涼ato! Questo es l'aiuto del die sina ALLLINE Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.